Che fine hanno fatto gli interventi per sostenere le comunità colpite dal nubifraggio dello scorso 25 novembre? E' questo in sostanza l'interrogativo contenuto in una lettera firmata dalla deputata nazionale del PD Maria Iacono e inviata al presidente della regione siciliana Rosario Crocetta. Al governatore viene sollecitata attenzione rispetto a quella che per l'ex sindaco di Calta Bellotta è un'eccessiva lentezza nei tempi e nelle modalità di riconoscimento e derogazione delle somme conseguenti alla dichiarazione dello stato di calamità. Secondo la parlamentare del PD il governo della regione a cui pure va riconosciuta la massima sollecitudine nell'essere intervenuto immediatamente in soccorso delle popolazioni colpite dovrebbe a questo punto sollecitare tutte le autorità competenti affinché venga disposta nel più breve tempo possibile la materiale erogazione delle risorse necessarie ad iniziare la fase della ricostruzione dei territori maggiormente danneggiati dando così ristoro alle comunità e alle attività produttive i cui danni risultano incalcolabili. Vi sono ancora comuni isolate ed intere zone del territorio grigentino impraticabili ha dichiarato questa mattina l'onorevole Iacono secondo cui i tempi della ricostruzione non possono attendere oltre. La deputata del PD raccogliendo il grido di allarme delle amministrazioni comunali sempre più preoccupate anche in considerazione del fatto che le esigue risorse municipali non sono certamente sufficienti a far fronte alle entità dei danni arrecati dal nubifraggio evidenzia che occorre la massima sollecitudine nel mettere a disposizione dei comuni le somme necessarie ad avviare lavori. Maria Iacono chiede dunque al presidente Crocetta di poter far sentire la propria voce presso le autorità competenti mettendo a disposizione le sue interlocuzioni col governo nazionale in ragione del fatto che tale vicenda rappresenta una priorità assoluta che non può ulteriormente attendere. Una situazione è quella del post nubifraggio che dalle nostre parti sconta anche il retaggio di una vita umana quella di Vincenzo Bono tuttora disperso. La situazione dei danni dopo il dossier con le richieste delle aziende colpite presentato alla regione è tuttora sotto i riflettori con condizioni difficilissime soprattutto nelle zone rurali dove sono diversi i fondi di campagna tuttora inaccessibili da parte dei legittimi proprietari. Zone dove non esistono più le vie di collegamento. Grazie a tutti.